ciao come sta se tutto bene nello spazio io resto a casa noi invece rimaniamo insieme anche domani con il nostro consueto appuntamento dedicato ai vinili sono andata un po alla ricerca nel nostro archivio di alcuni vinili particolari e ho deciso domani di passarne qualcuno che è legato a una colonna sonora quindi di qualche film di qualche cartone sicuramente qualcuno di voi li conoscerà altri magari sono un pochettino più particolari o diversi beh partendo da gris che penso che in tanti conoscano passeremo poi a quello di madonna who's that girl senza tralasciare air questo bellissimo musical non solo film per poi passare a miami vice mamma mia quanto è bello don johnson e poi per chiudere con questo non so se molti di voi se lo ricordano ma era un film veramente bello una storia d'amore tra un computer e una violoncellista e si chiama elettrizio quindi questo per darvi appuntamento come sempre domani alle 9 30 per raccontare ancora un po di musica insieme ai nostri vinili va bene vi aspetto ciao